Sono dispiaciuto per il risultato, perché ci tenevamo molto a cercare di vincere questa partita. Il vincere questa partita avrebbe impreziosito i tre pareggi che l'hanno preceduta. L'aver pareggiato a Bergamo, l'aver pareggiato con Bologna dopo aver fatto un'ora in dieci, la partita di Genova. Allora sarebbe stata impreziosita da questa vittoria. E' chiaro che tu fai un primo tempo buono, molto buono, da tanti punti di vista. Non solo fai gol, ma hai anche sette, otto occasioni per raddoppiare. E questa è la mancanza che poi paghiamo questa sera. Come ho detto poc'anzi, il ragazzo mi diceva, gli ho chiesto un paio di giorni fa quanto pensi di avere. E lui mi fa, insomma, 30 minuti potrei averli. E non si aspettava, non si aspettava di giocare dall'inizio. E io ho detto, vediamo poi, non ti preoccupare. Se saranno 30 minuti, se saranno 30 minuti, al trentesimo me lo dici. E quei 30 minuti sono diventati 60 minuti, non tutti dello stesso livello fisico, con le stesse intensità, con la stessa energia. Tanto che poi, insomma, è stato il primo ad uscire degli undici che avevano cominciato la partita. Però abbiamo intravisto un po' tutti il tipo di contributo che lui può dare se riuscirà ad avere continuità di salute. Nel finale poi anche riproposto Molina un po' più alto come a Bergamo nel tentativo di allungare nelle ripartenze magari il vero. Sì, perché loro che comunque cercavano di palleggiare e avevano la nostra squadra che si era abbassata di una ventina di metri, ci concedevano degli spazi molto ampi, degli spazi molto ampi in uno contro uno. Allora devi andare a cercare di mettere in quelle zone dei giocatori che possano sfruttarli questi spazi. Non ne avevamo più molti e Molina era, secondo me, una soluzione adeguata.